Zingari Di Piero, lavoro Natita Fratelli Palmieri, recupero carta da macero, sono magazzirieno mulettista e sto facendo un corso per la prevenzione infortunistica e tutto che mi piace anche seguire queste cose visto che ho delle persone che lavorano con me e sono anche un RLS e mi occupo anche della sicurezza per le persone. Più vengo a sapere le dinamiche delle sicurezze di cui si possono usare visto che adesso stiamo andando anche avanti negli anni, stiamo nel 2019, vorrei evitare come succede adesso ultimamente dei morti nelle aziende o nei posti di lavoro, cerco di aggiornarmi su tutto quello che è la prevenzione delle aziende o prevenzione nazionale che mi fa fare anche questi corsi qui.